Foligno capitale del calcio a 5 giovanile sul Sipario, sulle finali di Coppa Umbria Under 17 e Under 19 che si svolgeranno martedì 30 maggio. Si comincia alle 16.30 con la finale tra Virtus San Giustino e Futsal Ternana, valida per la categoria Under 17. A seguire alle ore 18.30, sempre al Palapaternesi di Foligno, la finale Under 19 tra Fontanelle e Virtus Gualdo. Un'iniziativa fortemente voluta dal Comitato Regionale Umbro nella persona del Delegato Simone Ortenzi, un'iniziativa resa possibile grazie anche alla fattiva collaborazione della società Realfoligno. Reputo che le finali di Coppa delle Giovanili, quindi settore giovanile, in questo caso parliamo di Under 15, Under 17, Under 19 e femminile, debbano meritare, come negli ultimi anni gli abbiamo dato apposivamente, un giusto merito, un giusto palcoscenico perché nella nostra disciplina del calcio a 5 è il fulcro della progettualità e appunto l'attività di base, l'attività giovanile per poter poi far crescere qualitativamente il movimento del futsal ai livelli di quelle che poi possono essere appunto le prime squadre e i campionati di vertice. Allora la programmazione che abbiamo definito e che poi è stato ratificato dal Consiglio che riguarda appunto le programmazioni delle finali di Coppa che avverranno appunto al Palapaternesi di Foligno saranno in due date, precisamente martedì 30 maggio e giovedì 8 giugno. Nella prima giornata di martedì 30 maggio ci saranno le finali della, cronologicamente diciamo andando in ordine di finale, ci sarà prima la finale della Coppa Under 17 che vedrà di fronte Virtus San Giustino e Fuzz Alternana e a seguire ci sarà la finale dell'Under 19, quindi della Juniors che vedrà diciamo scontrarsi tra virgolette Fontanelle e Virtus Gualdo. Gli orari di questa prima giornata di programmazione saranno rispettivamente 16.30 la finale dell'Under 17 degli allievi e 18.30 la finale della Juniors. L'altra giornata come dicevo poco anzi sarà invece giovedì 8 giugno con stessi orari, nella prima partita ore 16.30 ci sarà la finale dell'Under 15 e a seguire la finale dell'Under 19 femminile. Altra categoria, qui ci teniamo molto perché nel femminile quest'anno siamo riusciti a dare continuità all'Under 19 e tra l'altro in un rapporto collaborativo con il Comitato Regionale Lazio a poter fare anche un Under 15, un campionato giovanissimi femminile di calcio a 5. Quindi anche questo per noi è un motivo di soddisfazione che ovviamente lo definiamo un punto di partenza ma che ci permette di guardare con un'ottica particolarmente positiva al futuro. Per entrambi le giornate avremo un programma di giusto merito perché il Palapaternesi è innanzitutto un contorno che non ha bisogno di presentazione, è un campo che per antonomasia ha un'omologazione internazionale quindi se possiamo fare gare di competizione europea addirittura e quindi poter fare questi ragazzi e le ragazze che potranno calcare questo palazzetto in occasione di quelle due giornate di finale penso che possa essere già quello un motivo di soddisfazione anche per le società che sono appunto arrivate quindi le squadre che sono arrivate a queste finali. Dicevo l'organizzazione è di base, di fatto come programmazione di base è identica per entrambe le giornate cioè sia nell'una che nell'altra giornata avremo una premiazione diciamo che è un seguito soprattutto un seguito ecco questo possiamo dire di quella che è l'evento con una diretta perché comunque il nostro canale amico che è Tef Channel farà in modo di poter fare le dirette, dirette streaming che poi mi sembra che verranno mandate anche su vari canali e comunque sicuramente su YouTube, su Facebook e quindi diciamo avremo una giusta rilevanza che tra l'altro gli è stata data già dallo scorso anno, dall'edizione della passata stagione che le facciamo sempre al Palapaternesi di Foligno per dare appunto di come dicevo un giusto risalto, un giusto merito a questi ragazzi e soprattutto la giusta valorizzazione a quelle che le competizioni di attività giovanile di calcio a 5 quindi dicevo ci saranno queste dirette streaming di entrambe le partite, l'emittente poi farà anche delle repliche ovviamente e ci sarà un commento tecnico, cioè in queste dirette avremo un commentatore tecnico per ciascuna delle quattro gare di finale sia le 2 del 30 maggio che le 2 dell'8 giugno e a seguire ovviamente faremo le premiazioni ovviamente sarà presente per quello che potrà essere anche in parte il consiglio, quindi i membri del consiglio direttivo sicuramente membri del CRA, quindi del settore arbitrale come è giusto che sia tutte le finali per dare appunto il giusto e degno risalto avranno un doppio arbitro quindi ci sarà arbitro 1 e arbitro 2 che dirigeranno appunto tutte e quattro le gare quindi anche questo è un, chiamiamolo, un plus che abbiamo voluto dare di giusto merito quindi noi ci auspichiamo che ci potrà essere come d'altronde c'era stata anche nello scorso anno in questo caso ripeto quest'anno avremo due date e quindi auspichiamo in entrambe le giornate di avere al seguito comunque sia una buona cornice che poi magari essendo un palazzito anche particolarmente capiente magari sarà difficile poter vedere un pienone perché considerando le migliaia di posti che può avere come capienza il pala paternesi di Foligno però ci auspichiamo appunto che già come premessa abbiamo noi voluto dare come comitato regionale Umbria il giusto risalto a quella che appunto ribadisco è l'attività giovanile del calcio a 5 e che va comunque considerata e noi ne siamo comunque perfettamente convinti anche nei progetti che stiamo portando avanti anche nell'attività di base negli eventi che abbiamo fatto ultimamente tipo il Futsal Day, il Sei Bravo in 5 tutti gli eventi che hanno permesso di riempire tra l'altro nelle domeniche mattine i palazzetti per poter fare gli eventi di pulcini ed esordienti di calcio a 5 Porto chiaramente i saluti dell'amministrazione comunale per questo evento, un evento importante, queste finali di Coppa un evento per cui possiamo dire chiaramente che Foligno si conferma non c'era bisogno ma si conferma sempre di più come una città dello sport evento per il quale ringraziamo chiaramente questa società il Real Foligno, una società nata da non molti anni ma che già si è inserita in modo assolutamente importante in quello che è il panorama sportivo Folignate ringrazio appunto per l'organizzazione di questo evento il direttore generale del Real Foligno Stefano Poeta, Federico Caso direttore sportivo, Magli Valentino dirigente e lo sponsor il Todis di Via Fiammenga nella persona di Massimo Zanobetti cosa dire, speriamo che chiaramente ci sia anche un afflusso di pubblico notevole per questo che è un evento assolutamente di primaria importanza e che cosa dire, viva il Real Foligno, viva Foligno e viva il Futsal noi del Real Foligno crediamo molto in questo sport avendo una squadra oltre il confine regionale nel Serravalle di Chienti dove abbiamo un settore giovanile che partono dei ragazzini dai 8 anni fino ai 15 anni quindi questo vuole far capire a tutti quanti che crediamo in questo sport la crescita e il tutto che rappresenta che ancora non è conosciuto in tanti ragazzi portare l'evoluzione di questo sport anche nelle scuole e dei ragazzini più piccoli che prendono questo sport come un secondo al calcio e questo per noi è una prova, una sfida con il Presidente e tutto il nostro staff da Stefano Poeta, anche ai nostri sostenitori portare questa cultura che insieme anche a Simone Ortenzi vogliamo portare questa cultura ai ragazzi. Con me c'è qui Valentino, uno delle persone squisite perché se tanti ragazzi crescono e diventano quello che sono è anche grazie a queste persone che danno una mano alla società Real Foligno a imparare ed educare i ragazzi che saranno il nostro futuro. Sono molto felice di poter collaborare con questo staff anche se non sono di Foligno, sono emiliano però sono molto contento di poter condividere i nostri spazi insegnando a questi ragazzi elementari e medie. Sono orgoglioso da parecchi anni di essere lo sponsor del Real Foligno, è stata una collaborazione nata per caso perché prima da clienti del negozio e poi dopo è nata questa cosa. Io sono contento di poter aiutare sia i ragazzi che svolgono fin da più piccoli il loro percorso sportivo fino ad arrivare a tutti i risultati che potranno venire in futuro.